3 2 1 go 3 2 1 go 3 1 go No ragazze e ragazzi oggi siamo ritornate qui con un nuovo video questo video si tratta di un video Piedrina Challenge esatto allora ragazzi partiamo subito con le regole che ne sono pochettine ma comunque un po' da capire allora abbiamo Abbiamo quattro ingredienti qua dentro alla ciotolina e altri quattro nei palloncini dell'Italia e qui dentro invece abbiamo i fogliettini che diranno se sarà da scoppiare il palloncino o da aprire il cartoncino. Esatto. E quindi ora vediamo. Gli ingredienti sono fonsi piccanti, briochina d'arancia, oreo, smarties, brioche e capperi e la maionese che non riesco ad arrivarci. Maionese. Quindi sono otto gli ingredienti. Quindi quattro di qua e quattro di là. Qua stanno tutti i fogliettini. E qua la piattina. Sono otto perché appunto non sappiamo se vi piace questo tipo di video. Se vi piace fatelo arrivare a 3000 like e noi ne faremo un altro con più ingredienti. Sì. Incanciamo paura. Sì. 3, 2, 1, go. Dai facciamo sasso, carta, forbici. Sassso, carta, forbici. Sassso, carta, forbici. Io ho un camicia. Allora, no devi prenderla qua. Non ci riesco. Vediamo qual è, qual è. Non riesco a vedere. Pia. Cos'è? Perché sta scritto P? Allora, dove è stata P? Ah, P di palloncino. Devo scoppiare. No, no, no. Ho la patina. Tieni. Vai, prendi uno. Abbiamo fatto anche il fiore, guardate. No, Lalle mi deve aiutare. No, no, no. No, Lalle, aiutami per favore. Butta, scoppia, scoppia. No, no, no. Uno. No, no, no. Lalle, no. No, Lalle. Dai, butta. No, 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 no. E' già, Giulia. Uno. No, no, no. Vai. Vai. Forza. No, 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 no. Lalle. Bravo. E' già. E' già. Farlo con me, per favore. Fatelo fare con me. Ma sta girando qua che non si scoppia. Ah, no. Maggi. Ma non funziona. Di così, vieni. Dammi la mano. Ecco. L'ho ucciso. Vediamo. Mi ha fatto poco dal tuo rumore. Però abbiamo conosciuto più. Ok. E se? Oro. Oreo. 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 Per Giulietta. Ok, questi scassati però mi rimangono tanti uguali e bucce. Tanti Oreo buoni. No, no. Devi metterle ovun tutta. E questi sono anche double. l'ho. Tanti Oreo. Ti immagini poi di esce la maionese qua? No, tutti no però. Così? Così? Si buttano qui? Basta Leo, basta, uno qua e basta, basta, allora, tengo troppo povero, oddio, allora, nella carta sarà, carta, è normale, carta, ora mi esce la maionese che fa schifo, fa schifo sulla piadina tutto unito, eh, perché io lo amo questa maionese qui, mi puoi dire, allora, aiuto, mettemmo... Capperi, wow, capperi, guardate, madonna mi è tanto male, allora, guardate, capperi, capperi, no ma capperi sono capisati a me, mi capperi, dammi capperi, dai, madonna mia, dai, a me non mi sono capisati a Gialeo, non mi sono capisati a Gialeo, non mi sono capisati a Gialeo, Metti! Posso mettere sul piede? No! Ah! E abbiamo presi d'Apple proprio per te! A me non mi piace neanche tantissimo! Una forcata! Perché non ne voglio mettere troppi! Ma dove mi sento male! Che schifo! Così buoni! Angola! Angola! No! 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 E' però no così! E' uscito pure il sugo! Ma che schifo! Basta! Basta! No! Ma io voglio mangiarne! Tocca a te ora! Vabbè! Uno pure io! Mi piacciono! Però no! Sulla piadina! Mangiamo bene! A me è bellissimo! Canta! Carta! E' carta! Cosa è scemo allora! Carta va schifo! Voglio prendermi una carta! Che gli appoglio! Onde perché hai visto? Ma no! Ma no! Ma io mette! Che schifo! Uaah! Ma io mette! Che casino mette! Ahahahah! No! Su giro è un obero! Che cosa è che mi poteva capire? Guarda che è più buono! No! Ma per se quella è quella nuova! Non è aperta! Secondo me questa! Non è aperta! Non è aperta! Non è aperta! No! E' quella cattiva! Cattivo cucciolo! Cucciolo sei tu! Sopra! Fai così! No! No! Ma roghi schifo! Ehi! No! Madonna! Tocca a me! Siete fortunati che lo facciamo per voi! E io però! Un palloncino no! Sempre sta costa! Ma esco le viste! Tipo da pasta! Merendina! C'è il caffio di merendina! Sì! Me lo sentivo! Ma io non mi sono presi! A me non mi piace la merendina d'arancia! Pezze! Tutta, tutta, tutta! La lei la dobbiamo fare per i nostri magichimi! Lo so! Ma perché fai così? Non ti vorrei mangiare! Un palloncino tanto buono! Sì! Ma non con questa roba! Perché questa roba si fa già assoluta! La lei pensa che tu stai più schiattata! Palloncino! Sì! Ma perché a lei la dobbiamo fare per i nostri magichimi? Non è giusto! Voglio ancora rimasciare a lei! Ma camminateli! No! No! Sentite! Ci provo raga! Vai! Butta! Scoppia! Allora! No! Puoi scoppiare il verde? No! Non ho paura! Vai! Scoppia! Allora! Scoppia! Scoppia! E non ci vede! Sentitelo! Scusa! Intelligentemente! No! No! Paura! Aiutami! E muoviti! Giuliano! Andieni! 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 No! Devi mangiare! Vai! Dove mi ha dato il foglio? Non mi riesco a prenderlo! Vai! Prendi! Non mi riesco a prenderlo! Anzi! Sì! Uno lo sento! Matte il fame! Oddio! No! Mettali! Tutti pure tutti! Non ti preoccupare! Tanto io sono con la zofa! Se no! Questa! Vedo! E butta tutti! Vai! Vai! E fai così! Danno un po' di colore! Finiti! Tocca a me! Oh! Che ho fatto? No! Dai! Per ora mi riesce la carta! Io non ne so certa! Pallonzino! Spero non mi riesco a riportare! Non mi riesco a riportare! Non mi riesco a riportare! No! E' vero! No! E' vero! E' vero! No! Non mi riesco a riportare! Immagini? No Ma se non vedi, mi sarei fatto un bel zielo Un giorno è fatto un bel zielo Ma io su che ho... Mamma mia, in su Uno Quattro contati? No, 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 no Eh dai, però, sono troppi Ti vedo un sacco di maionese, guarda No Eh dai, basta però Basta, basta, pronto Si sciolgono tutti Nooo Basta Carta Oh, meglio, tieni Batti il cappellano Vai, carta Vitte, ammiglia, non sono i posti Dammi il palloncino 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 è quasi tutto dolce che schifo ma no mi sento male ma sono 42 a te viaggia il bello è quasi tutto dolce che è quasi tutto dolce ma no Giulia fa umidiamo tutti basta basta allora vi devo far ammirare che mi è capito del pallanzino scoppiamo ma no no io me lo faccio 3 2 1 go dove sta il foglio? non mi fico io voglio il foglio vabbè si vede fonsi ci faccio puntare tutti adesso facciamo salvatani si tutti mi coprono no no Giulia no no mi devono coprire la piadina ci Ok va bene mangio uno pure io no no żebym vabbè mai un pancetto vabbè ragazzi ecco I risultati della pizza Devo dire che sono stata abbastanza fortunata Io le pizza Ah, della piadina Devo dire che sono stata abbastanza fortunata Perché anche nella prima pizza challenge Mi capitarono le patatine E coprirò tipo tutta la pizza Ed era buonissimo Quindi diciamo sono fortunata Speriamo che copre Giulia è stata un po' sfortunata Oreo, Wurstel Martins, Mario Siamo tradito Tu mi hai tradito Perché mi hai messo Di marshmallow, la brucina No Vabbè, ora l'andiamo ad infornare E dopo Ciao Ragazzi L'abbiamo riscaldata E ora veramente Inizia la challenge Prima non era niente Ora questa è la challenge Devo mangiarla Ma io non ce la faccio Dobbiamo farci avviso Adorno Nooo Spezza la piadina E si spezza Ma che c'è ne potte Io non ci riesco Sì 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 Mi caperiamo Bagnolo Tutto Bello Ciao Non ci vedremo a mai Non mi mangio l'oro, l'oro, la mia vita, la vita, si, abbiamo finito la pelle, quindi? Ragazzi, non la fai a fare, vero? No, no, no. Ragazzi, non la fai a fare, vero? Guardate quanto fa schifo qua dentro c'è. L'abbiamo fatta perché comunque abbiamo fatto la pizza challenge, abbiamo fatto la panina challenge. Non ci poteva mancare la piadina challenge. Però no. Non è più, ma è più, ma è più, ma è più. No, no. A parte che c'è la prima briuscina d'arancia, ma no, non piace a me la briuscina d'arancia. Vabbè. A 3.000 like ragazzi, arriviamo a 3.000 like che facciamo un altro video piadina. Se la volete con i genitori facciamo sempre hashtag solo Dani, 3.000 like. e scrivete hashtag solo Dani e appunto a fianco scrivete mamma e papà. Mamma e papà o solo mamma o solo papà. Decidete. Oppure o mamma e papà. 3.000 like, hashtag facciamo solo Dani, scrivete a fianco e hashtag... E' bloccata. E' bloccata. Lasciamola così. Ma là. Che schifo. 4.000 like, patana mia, 5. Hmm. 4.000 like, 5.000 like, 5.000 like, 5.000 like cashflow, 6.000 like, 6.000 like. 5.000 like. 5.000 like, 5.000 like, facciamo solo danni a fianco mamma e papà se volete mamma e papà oppure a se la facciamo solo danni se volete solo papà a se la facciamo solo danni solo con la mamma quindi 3, 2, 1 go quindi ragazzi questo è il video spero che vi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a Instagram Mark e Giulia Gawain su un basso Occian e su Facebook Mark e Giulia Gawain Real sul secondo canale Maggi TV su musica nicchia io sono Mark e Giulia Real se volete le maglie le cover o le maglie di santi colori andate su www.markgiulia.com quindi ragazzi vi mandiamo un basso se il video vi è piaciuto lasciate like fino a 3000 oppure di più commentate iscrivetevi al canale e appoggietelo e anche attivate la campanella se volete essere attivi sul canale altrimenti non lasciate se non vi è piaciuto shhh